Grazie a tutti. La prima gara che fa lui l'ha fatta con me, perché a me non me l'ha fatta fare. Mi è venduto un cavallo senza vicenza di me receso. Lì, spiaccia, spiaccia le gambe. Vai! Tre! Stanno con la mano. Vai, allarga la gamba, stai seduta indietro. Voce! Tre! Vai! Brava, ora guarda avanti e fai la tua andatura. Vai! Guarda bene in centro, guarda un po' dentro e lascia andare. Impegnala un po' però! Impegnala un po' però! Brava! Guarda dentro, guarda dentro! Guarda dentro! E non fare niente, guarda dentro! Ora! Brava! Alza un po' la mano! Alza un po' la mano! Brava! Così! Così! Bravissima! Guarda dentro, guarda dentro! Noticcio! Tri! Non fare niente eh! Brava! Super E ora ricordati quello che ho detto! Brava, brava, usa un po' di gambe, brava, molla ora. Metti giù la mano, brava, vai, brava, devi cambiare eh, piano, piano, brava, stai seduta indietro e piano con la mano, seduta indietro lì, brava, vai ora. Bravo, piano. Grazie. 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 Grazie.